Mai nella storia i processi di urbanizzazione sono stati così rapidi senza un'industrializzazione che li spingesse. Bisogna capire quali forze governano questi processi. Così il sottosegretario alle Nazioni Unite, Johan Kloss, ha spiegato in una conferenza stampa a Castel dell'Ovo l'obiettivo principale del World Urban Forum, che si svolgerà a Napoli dal 2 al 6 settembre. Saranno 5.000 i delegati di 114 paesi, fra cui 25 ministri e 5 capi di governo, che alla mostra ad oltremare discuteranno sulle evoluzioni socio-economiche delle grandi città, la cui densità abitativa negli ultimi 25 anni è cresciuta dal 20 al 60%. Il dibattito sarà quindi incentrato su come coniugare ecologia, economia ed equità, seguendo quattro linee di sviluppo. La pianificazione urbana, l'equità e la prosperità delle città, la produttività e la mobilità urbana. Dai 3,5 milioni di euro, il costo dei tre giorni dell'evento è stato ridotto ad 1,2, di cui 200.000 euro destinati al recupero di piazza Mercato, secondo un progetto del Comune di Napoli. Il sottosegretario agli esteri, Staffan de Mistura, ha ricordato l'iniziale contrarietà all'evento, superata poi grazie alla revisione della spesa, alla certezza che qualcosa resterà a Napoli e dal grande prestigio per una città viva e stratificata che ben si presta a questo confronto, parlando poi anche del mancato appoggio del Governo al Forum delle Culture. Sono due eventi completamente separati. Questo è il Forum Urbano Mondiale, il cosiddetto World Urban Forum, che effettivamente dura tre giorni come eventi internazionali. Poi noi, essendo un grandissimo evento, insieme anche alla Regione, riempiremo per tutta una settimana una serie di eventi ordinari nella nostra città. Il Forum delle Culture è effettivamente un'altra cosa, ma non aspettiamo certo il nuovo Governo, perché l'organizzazione del Forum è già partito. Se il sottosegretario si è un po' confuso, perché l'organizzazione è già molto avanzata, abbiamo fatto l'accordo con la Regione, è stato nominato un commissario, stiamo firmando il protocollo con Barcellona, il Forum si farà a Napoli, certo con un nuovo Governo, questo sicuramente sì.